Ho sempre dato il cento per cento, ogni giorno. Alcune persone mi hanno sempre motivato, ogni giorno. Dove ero io, c'erano anche loro. 365 giorni all'anno, l'ispirazione per i miei successi è venuta da loro, anche grazie a loro sono diventato colui che sono oggi. Musica La gente mi riconosce, mi segue con entusiasmo. Mi applaudono, una bella sensazione. Ragazzi, questi applausi sono per voi. I miei eroi siete voi. Mila 100% Latte dell'Alto Adige Grazie 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 Grazie